Chiede una maggiore attenzione e cura dell'area giochi presente nella zona di Santa Petronilla il consigliere comunale Gianluca Bruzaniti. Diverse negli anni le richieste di intervento da parte di cittadini e non solo. Il consigliere Bruzaniti dunque accende nuovamente i riflettori sulla questione e sulla necessaria manutenzione del parco attraverso un'interrogazione per evidenziare le condizioni in cui versa la villetta utilizzata da molti bambini. Ormai da troppo tempo un parco giochi è stato realizzato all'amministrazione Campisi versa in terribili condizioni nel quartiere Santa Petronilla. Devo dire che questo parco giochi, seppur piccolino, seppur lasciato in completo abbandono, è un parco giochi utilizzato da tantissimi bambini del quartiere, da tantissimi bambini della scuola Santa Petronilla che è accanto. E quindi dispiace davvero vedere quotidianamente tutti questi bambini utilizzare praticamente un parco che è in completo stato di degrado e abbandono. Ritengo che i parchi giochi di ogni quartiere debbano avere una manutenzione adeguata, a maggior ragione nei quartieri comunque popolari dove hanno anche una funzione sociale. Ritengo doveroso pertanto sollecitare all'amministrazione il fatto che i bambini della nostra città hanno tutti gli stessi diritti e che si debba intervenire nell'immediato per dare le condizioni, non dico ottimali, ma quantomeno il minimo sindacale dovrebbe essere un dovere per i nostri concittadini. Dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti sull'abbandono di rifiuti, il consigliere nei giorni scorsi ha anche effettuato un sopralluogo nei pressi del parco Balate. Il rischio sarebbe stato che anziché diventare un nuovo polmone verde, forse l'unico polmone verde della città, potesse diventare una discarica a cielo aperto. Quindi mi sono regato sul posto, ho immediatamente sollecitato l'amministrazione e gli uffigi che sono, devo dire, immediatamente in maniera repentina intervenuti e hanno sanato la problematica.